Il 3-5-2 di Silva contro il 4-3-3 di Soda. Questi dovrebbero essere i temi tattici di Campobasso Recanatesse di domani pomeriggio. L'allenatore dei marchigiani si gioca il tutto per tutto e potrebbe anche prendere clamorose decisioni come l'esclusione di Degano dal primo minuto. Quest'ultimo è il più anziano in rosa, probabilmente un giocatore non più brillante come ai bei tempi, sostituito domenica per la prima volta in stagione contro l'Olimpia Agnonese. Silva dovrà rinunciare a Corbo che non si allena da due giorni a causa di un persistente stato influenzale. L'Ander Molisano non sarà della partita, l'unica defezione in casa Rosso Blu. In mancanza del classe 98 in difesa, sicuro candidato alla maglia dal primo minuto sarà D'Aversa a centrocampo. Mentre in attacco il tecnico Rosso Blu recupererà un altro fuori quota, si tratta del Bevi Martiniello destinato a sostituire Fioretti. A completare le pedine di centrocampo, oltre a D'Aversa ci potrebbero essere Iaboni e Grazioso. Soda schiererà Fogliera tra i pali nella difesa a quattro, aggiranno da destra verso sinistra Tomassetti, Falco, Dominici e Mordini. Reparto mediano a tre con lo Iodice, Lauria e Gabrielli. Attacco formato da Fioretti, soltanto omonimo della punta del campo basso, Villanova e Senegayesi. La caratteristica tutt'altro che buona della Recanatese è stata quest'anno la fragilità mentale. Tanti risultati di vittorie parziali si sono spesso tramutati per i marchigiani in amare sconfitte. Domani esiste un obbligo in capo agli ospiti di turno di fare bottino pieno e sperare nella salvezza. Tramite i play-out nella lotta disperata ci sono pure il Castelfidardo e l'Alfonsine. Queste ultime due squadre negli ultimi tre turni di campionato dovranno stare ferme perché avrebbero avuto il Chieti secondo calendario. Un indiscusso vantaggio questo per la Recanatese che dal canto suo giocherà tutti e tre gli incontri di campionato residui. Il motto che ho coniato da alcuni cronisti di Recanati per questo decisivo viaggio in Molise è o la vittoria o l'inferno. Anche da questo titolo è facile intuire la pesantezza della posta in palio per i leopardiani. Il Campobasso, in lutto per la scomparsa del giovane ed appassionato tifoso Matteo Iantomasi, vuole provare a chiudere in bellezza la stagione onorando al massimo gli ultimi 270 minuti. Con queste premesse sarà possibile assistere ad una gara estremamente combattuta. A partire dalle ore 15, Campobasso Recanatese sarà diretta dal signor A Canfora di Castellammare di Stabbia.